Dal 2018 la Fondazione Pesarese Vanda di Ferdinando ha coinvolto più di 200 giovani e giovanissimi della nostra provincia all'interno di articolo 26. Un progetto giunto in quest'autunno alla sua quarta edizione finalizzata a portare all'interno e all'esterno delle aule scolastiche un'educazione civica e morale rivolta ai più giovani pesaresi e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, ad una consapevolezza verso la determinazione delle futuro che gli attende. La novità di quest'anno è la rafforzata attenzione verso l'ambiente e le dinamiche climatiche per un articolo 26 che recepisce i dettami dell'agenda ONU 2030 attraverso un'azione di partenariato con la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro. Da novembre a giugno tante iniziative guidate da uno staff di professionisti rivolte ai bambini per insegnare il rispetto del pianeta compreso l'organizzazione del festivalino dell'ambiente così come tanta attenzione agli studenti delle scuole superiori con un ciclo di appuntamenti legate a tematiche di diritto all'istruzione e tutela dell'ambiente sempre in un'ottica di sguardo allargato a livello internazionale. Così come internazionali sono anche i progetti filantropici che Fondazione Vanda di Ferdinando e Cassa di Risparmio di Pesaro continuano a cavalcare. Questa nuova edizione del progetto sta rientrando in maniera tutto tondo per quello che riguarda l'agenda 2030 che è un'agenda che è importante non solo per l'Italia ma per tutto il mondo. Significa a un certo punto immeggersi nella condizione, nella necessità di un cambiamento nei rapporti all'interno della collettività mondiale e quindi anche per quello che riguarda Pesaro perché facciamo parte del mondo perché l'ambiente è una questione estremamente importante, se ne stiamo rendendo conto tutti e qui è stato anche merito della Fondazione Vanda di Ferdinando di averlo percepito ancora prima che venisse fuori questi tipi di problemi, già quattro anni che lo facciamo e diamo l'opportunità, mettiamo a disposizione il sapere su questi problemi ai ragazzi perché saranno loro quelli che poi dovranno avere la possibilità di combattere con le armi necessarie, diamo gli strumenti per poter combattere, cerchiamo di taglierli, non so se sono sufficienti ma il tentativo è questo.